Ad Eboli il sindaco Mario Conte ha scelto il nuovo segretario comunale. Si tratta del dottor Lucio Pisano, sessantenne, che sostituirà Domenico Gelormini, che giovedì sera, per l'ultima volta, era presente al municipio di Eboli per l'approvazione del bilancio di previsione. Una scelta, quella del sindaco Conte, ufficializzata con un provvedimento pubblicato sull'albo pretorio, con la nomina di Pisano, nato a Paronissi, che proviene da Sala Consilina. Bisogna ancora sciogliere il nodo riguardante invece la polizia municipale, ovvero la nomina del nuovo comandante, che dovrà sostituire Mario Dura, che ha ottenuto una proroga. L'assessore Antonio Corsetto e il sindaco potrebbero già essere al lavoro per individuare il futuro comandante della polizia locale di Eboli. Sfuma l'ipotesi riguardante il finanziere Malandrino, che invece dal 1 settembre assumerà l'incarico di comandante della polizia municipale di Castellabate.